Buonasera e benvenuti a Naturalis. Nelle prossime settimane parleremo di bellezza e cura dei capelli insieme al nostro amico Davide Copelli, per cui non vi resta che ascoltare i suoi saggi consigli su prodotti naturali per curare i vostri capelli a 360 gradi. Buona visione! Oggi siamo diventati anche noi un po' bambini, quindi ci siamo seduti su uno dei tavoli giochi che ho preparato per i nostri piccoli amici. L'accoglienza è semplice, chi viene da noi vuole stare a contatto appunto con la moda anche per quanto riguarda la cura del capello per il bambino e anche per quanto riguarda lo stile, quindi il taglio. Mi avvalgo delle mie colleghe che sono bravissime e che si curano al 100% dei nostri piccoli amici perché, come tu ben sai, i bambini non hanno tutta questa gran voglia di venirsi a tagliare i capelli. Allora noi abbiamo viato a questa cosa creandogli proprio un ambiente, un'atmosfera accogliente per loro con tanti giochi. Abbiamo i DVD, abbiamo giochi interattivi, giochi che possono essere quelli di spugna, che magari non vedono più da tanto, ecco, perché sono curioso. Oggi con l'arrivo anche della tecnologia sono sempre con questi giochini, noi invece li facciamo giocare anche con altre cose di altri tempi. E detto questo prepariamo anche il capello del bambino a ricevere le prime cure importanti. Noi serviamo dei bambini in questa sala dai 2 ai 7 anni, è importante farli capire l'uso di prodotti professionali adatti per loro, esclusivamente per loro. Detto questo ci avvaliamo di questi prodotti grazie a L'Oreal della Serenatur e questo è uno dei prodotti nuovi che abbiamo introdotto nel nostro salone. E' a base di pesca, non ha parabeni, non ha siliconi, quindi non ci sono conservanti. I conservanti che ci sono all'interno sono di origine naturale, quindi sono al 100% di origine naturale, ma non sono di origine chimica. Questo è un prodotto che viene fornito con lo shampoo e il districante o cosiddetto anche conditioner, quindi per districare il capello e per lucidarlo. E' a base di latte di pesca, infatti ti farei sentire anche la profumazione, mi dispiace per gli amici dall'altra parte della telecamera che non possono sentire la profumazione, ma vi assicuro che sembra di mangiare pesca. E' veramente il profumo della pesca, quindi si sente che è naturale e non c'è quel retrogusto chimico, no? Esatto. Bisogna essere con i bambini, soprattutto quelli più piccoli, parliamo dei 2-4 anni, molto veloci. Dobbiamo giocare con loro, però dobbiamo anche creargli un trattamento molto veloce. Quindi anche nel lavaggio dei capelli deve essere un qualcosa di utile, ma essenziale e in maniera, ripeto, veloce. Gli inestetismi del cuoio capelluto, come quelli del capello, a un'età così precoce non ci sono ancora. Se non, si può parlare della crossa lattea, comunque di problematiche normali, non inestetismi diffusi, come quelli che poi invece si possono valutare nell'età adulta, che può essere magari la forfora seborroica o il capello troppo grasso. Quindi diciamo che non ci hanno questi tipi di problemi. Sul fatto del capello secco, quello è una predominante comunque del bambino, ma perché tante volte ci si lava appunto con dei prodotti non idonei. Quindi mi è capitato tante volte dei clienti che magari hanno i bambini che si lavano lo stesso con il bagno schiuma e quindi quello può seccare il capello. Per questo noi consigliamo anche lo shampoo per i bambini. Perfetto, quindi io direi che non resta che venire appunto nel salone di Davide dal bambino fino alla dulce, quindi ormai sono prodotti a 360 gradi. Che dire, è un ottimo prodotto appunto a base di pesca e latte senza parabeni e senza siliconi. Non vi resta che venire a provare e venire a passare una giornata magari mamma e bambino. Ecco, quello sarebbe perfetto. Noi rimaniamo qua, vuoi giocare? Noi adesso giochiamo e ci vediamo alla prossima rubrica. Buona serata.